Ciao, buonasera, ciao, buonasera a tutti. E siamo, siamo live. Ciao. Ciao a tutti quanti, amici e amiche di Evolution Mandala. E come siete? Siete pronte per questa nuova, nuovissima live in cui parleremo questa sera di geometria? Però anche faremo insieme, passo dopo passo, un mandala geometrico. Quindi, pronte i colori, tutto quanto, tutto il materiale. Adesso, ovviamente, lo vedremo insieme. Intanto vediamo che state arrivando. Salutiamo la Daniela, la Daniela Emy, buonasera a Daniela, la Carla Capelletti, una buonasera, grazie di cuore, grazie a te, grazie a te. Ciao Federica. Anche ciao Federica Baldini, una buonasera, cara, e anche la Claudia Baruzzi. Marina e la Scarpa, ciao da Facebook, così anche come Laura Iba da Facebook. Allora, questa sera, mano a mano proprio che vi connettete, che iniziamo a vedervi, diciamo anche magari chi è Evolution Mandala. Sì, Evolution Mandala, allora, è stato creato da io, Astrid, insieme a Raphael, ed è un metodo per creare il mandala, però non come finalità, ma ovviamente come strumento poi di crescita personale. Quindi utilizziamo il mandala, i colori, la creatività, l'arte a volte, per raggiungere degli obiettivi interiore che possono essere di pace, di serenità, ma anche lavorare su degli obiettivi, aumentare le energie e quindi stare meglio. Questo è l'intento di Evolution Mandala. Quindi non è una cosa performativa, quindi tutti possono fare il mandala con Evolution Mandala, perché non poniamo l'attenzione su il risultato finale a tutti i costi. Anzi, ci divertiamo, liberiamo la nostra creatività, diamo un po' voce alla nostra passione per la creatività. e come sempre facciamo, anche per chi magari ci conosce da più tempo, ma diamo i benvenuti anche per le persone che ci vedono per la prima volta. Noi di solito iniziamo le dirette, le live, sempre salutandoci, proprio come si fa tra amici. Quindi salutiamola, andando a ritroso, salutiamo dalla Marinella Scarpa, alla Laura Iba, all'Elena Silvia Belbruno, una buona serata. Ciao. Abbiamo alcuni Facebook user, purtroppo non vediamo, vediamo magari solo. C'è Alexandra che vedo qua, Claudia, ciao Claudia, grazie, ciao, che vedo da qua, Francesca anche. La Daniela Ferrari invece da YouTube, Doriana Tripodi, ciao, e anche l'Adriana, una buona serata Ulanoschi. L'Ornella Jeanne, la Samantha Bertolotti, la Claudia Pettinella e Peggy Grillo, anche Serena Strocchi, siete tantissimi adesso. Siete tantissimi adesso. Siete arrivati adesso, siete arrivati adesso. Siete arrivati adesso. Bene. Mentre proprio partendo anche magari, diciamo, chi siamo? Chi siamo? Sì. Per tutti quanti gli amici nuovi. Soprattutto, esatto, che è la prima volta, e grazie di essere qui con noi per questa esperienza anche creativa di questa serata. Io sono Astrid, io mi occupo prevalentemente di crescita personale da molti anni, anche formazione professionale, ma soprattutto nel campo artistico e creativo. Poi sono arte terapeuta certificata, anche illustratrice e scrittrice presso la Newton Compton. Insieme a Raffaele abbiamo pubblicato un libro, dopo ovviamente ne parleremo sui mandala, ma non solo, anche nel gruppo macroedizione ci sono anche le Evolution Card che avevamo pubblicato. Sono delle carte proiettive, delle carte dei simboli. Saluto Claudia Tonetto, Graziella Serra, una buona serata, Carolina Castellano, una buona serata, Carolina. Anche alla Giusy, una buona serata, la Claudia Ripi, una buona serata a tutti, la Cinzia Tempieri, l'Anita Berthe, la Marina Bertagnin, e la Elisabetta Giambanco e Andrea Renzi. Una buona serata, Andrea. Invece sono Raffaele, sono un formatore e anche scrittore. Insieme ad Astrid abbiamo inventato proprio il metodo Evolution Mandala che ha avuto comunque un'espansione molto forte volta all'online, soprattutto nel periodo che ci ha visto tutti quanti vivere un momento non semplice, il periodo del lockdown, un momento in cui abbiamo, ci siamo, diciamo, leccati le ferite insieme in tante serate in cui abbiamo trovato la forza, abbiamo trovato anche, ricercato serenità, ricercato gentilezza, ricercato di rimetterci al centro di quella che è la nostra vita. Quindi è un gruppo che si è fondato, una comunità che si è fondata e si sta continuando a fondare sullo spirito appunto della gentilezza, della creatività e della, come ha detto giustamente Astrid, della crescita personale e della crescita spirituale. Ovviamente Evolution Mandala è nato ben prima del lockdown, quindi prima eravamo in presenza con tantissimi laboratori, esercizi e esperienze e piano piano appunto adesso ci siamo un po' trasferite online, anche se adesso ricominceremo la grande, tante anche attività in presenza, sempre rimanendo online, così da poter anche viaggiare virtualmente dappertutto, perché sappiamo che voi siete ovunque, fino in Germania, in Svizzera, in Argentina, in America adesso. Infatti comunque anche in questo periodo stiamo organizzando anche un po' un Rochow, facciamo vedere, anche per il libro. Saremo comunque a Udine, a Padova, a Milano, a Roma, a Napoli, Bologna faremo, Mantova, zona Mantova, stiamo fissando proprio varie date e magari anche ci sentiremo via via. Salutiamo anche la Dorina Tripodi, la Gloria Togni, una buona serata, Maria Mattarello, una buona serata anche a te, la Rosa Mel, la Chiara OGM, siete in tantissimo, la Falda è commissa, però ci teniamo, magari non so se riusciremo a salutarvi tutti, ma veramente vi salutiamo col cuore, anche la Sanda Filippo, una buona serata, anche la Maria Laura Sieri. Astrid, mentre proprio si connettono tutti quanti, ci dici cosa ci serve questa sera per portare avanti questo mandala geometrico? Esatto, quindi materiale per stasera. Allora, per prima cosa un foglio, io consiglio sempre un Fabriano, semplice da trovare anche, liscio, 220 grammi, perché così avere un foglio un po' spesso permette che quando andiamo a colorare, sia con i penarelli o le matite, di non bucare un foglio. Però ovviamente per iniziare, se è la prima esperienza, la prima volta, va bene qualsiasi foglio che avete. Dopo miglioreremo materiale e quant'altro, però iniziamo con qualcosa di semplice, album da disegno o un foglio da stampa. Diciamo, come magari spieghiamo sempre anche nei corsi, è giusto partire abbastanza a scariche. Dopodiché, ovviamente, se volete fare un mandala ad acquarello, ci vorrà una carta ovviamente specifica, ce ne sono tante. Magari nei prossimi giorni anche caricheremo diversi video anche con le migliori carte, per esempio, a seconda di cosa dobbiamo andare a utilizzare. Però, visto che il concetto a cui ci ispiriamo per Evolution Mandala è quello proprio della semplicità e del non avere, diciamo, anche scuse per non partire, perché alla fine tante volte, diciamocelo tra di noi, ditelo magari anche in chat, se non vi è mai successo. Magari non partiamo, non facciamo un passo, perché, oddio, è troppo difficile, se dopo non riesco, dopo magari mi criticano. O non ho un materiale giusto, non è abbastanza professionale, non va bene. Quindi ci togliamo anche quell'alibili, siamo proprio profondamente onesti con noi stessi, partiamo, partiamo, perché c'è sempre tempo per migliorare. Dopodiché, per i mandala geometrici, quindi non tutto Evolution Mandala, ma in questo specifico caso che vediamo stasera insieme, avremo comunque bisogno di un compasso che io vi consiglio, se non l'avete ancora, di comprare con questo oggetto, che è un occhiello, che dopo si potrà togliere, perché questa è una parte dove c'è, in realtà, la punta con la matita. Normalmente qua c'è la punta di ferro che permette di fare il perno sul foglio, qua andrebbe la punta matita che io ho sostituito con questo occhiello, che si trova dentro le astuci di compassi un po' più scolastici, anche professionale. Perché questo? Perché questo dopo metteremo, potremo mettere tantissimi attrezzi, quindi la penna, il penarello, matite colorate, e quindi ogni volta che farò il cerchio potrò cambiare secondo quello che è un po' la mia aspirazione artistica. Invece se lasciamo quello solo a matita, potremo fare i cerchi solo con la matita. Quindi per quelli che ci vedono per la prima volta e magari si stanno avvicinando proprio a un atto creativo, molto probabilmente hanno scoperto stasera cosa serve questo benedetto occhiello che c'è sempre dentro le confezioni dei compassi. Perché potremo mettere appunto la matita, quello che stasera utilizzerò quella meccanica, ma possiamo anche mettere una penna che dopo ripasseremo il nostro mandala con un penarello indelebile. Una buona serata alla Jessica Zucchetto, la Raleia, una buona serata, la Deborah Biola, una buona serata anche a te, la Maria Claudia Massa da YouTube, invece la Liliana Longiu da Facebook. Una buona serata. Poi abbiamo bisogno di una stecca graduata che è anche chiamata goniometro. Questo ci permetterà di fare delle divisioni del nostro cerchio in maniera proprio geometriche, quindi perfette in completa simmetria. Quindi potremo dividere il nostro cerchio in 4, 6, 8, 10, 12, 16 parti uguali. Per quello è molto pratico avere comunque questa stecca graduata, quindi o a triangolo lo potete trovare o questo che si trova molto di più in commercio che è proprio il goniometro. Quindi parte generalmente da zero fino a 180 gradi. Vedremo insieme anche come utilizzarlo. Questo è molto pratico. Bene. Allora, nel frattempo, saluto, continuiamo sempre a salutare mano a mano proprio le persone, l'Elisa Magno da Facebook, la Daniela Morellini. Buona serata a te, cara Daniela. Ci sono purtroppo diversi Facebook user che non vedo, ma Elena Silva dice è un blocco da 300 grammi, va bene comunque? Sì, benissimo. Dai 120 grammi in su è perfetto. Ovviamente, come abbiamo detto, se abbiamo un foglio semplice va bene anche, però dai 120 grammi in su va benissimo. L'unica cosa che vi consigliamo e se volete dopo colorarlo con le matite o i penarelli di non utilizzare un foglio ruvido. Il ruvido generalmente è utilizzato più per pastelli più anche acquarellabili, l'acquarello, le tempere, il guazzo. Quindi meglio un liscio per disegnare con i materiali secchi, meglio un ruvido, come diceva giustamente Raffaele, un foglio acquarello, ancora meglio per quanto riguarda i materiali liquidi. Dopodiché mano a mano che ci conosceremo parleremo magari del misto cotone, del 100% cotone. Ovviamente c'è tanto da approfondire ed è veramente un mondo super super affascinante. Io da Facebook posso salutare anche Daniela, Claudia, Monica, ciao Monica, ciao Lucia, ciao Stefania e anche vedo Valeria, ma che lì siete in tantissimi. Claudia Ventrone, Daniela Emi da Facebook, Lucia Milan da Facebook, è la Ralaia che dice si confermo, prima di conoscervi non lo conoscevo proprio l'occhiello del compasso. E la Federica saggiamente dice, Baldini dice, i primi blocchi ce li creiamo proprio noi, hai ragione, hai ragione che era Federica. Però questa sera siamo tra amici, proprio siamo tra amici, quindi il mood della gentilezza e del non giudizio verso gli altri e anche prima di tutto verso se stessi deve vige proprio in questa diretta. La cosa bellissima con l'arte e la creatività è che in realtà possiamo sempre migliorare, non è possibile peggiorare. Quindi stasera è una piattaforma esperienziale per fare veramente un passettino avanti nelle nostre esperienze creative, ascoltandoci anche, sentendo questa passione che abbiamo per la creatività e appunto come diceva Raffaele senza giudizio perché appunto siamo tutto in cammini, tutti in cammini verso appunto la ricerca alla fine di noi stessi. Quindi sono strumenti, ci divertiamo e lo viviamo con come un bambino che ci ricordavamo quando abbiamo ricevuto i nostri primi colori, abbiamo passato ore colorare, disegnare, ritroviamo un po' questa gioia del bambino interiore per creare. Bene, salutiamo anche Tiziana, Puleo, ciao ragazzi, è una buona serata e grazie del ragazzo. Siamo molto, molto, molto carichi proprio per iniziare a partire con la serata. Allora, oltretutto, mentre Astrid anche disegnerà, quando ci saranno magari le consegne, ve le dirà direttamente ovviamente lei, però mentre magari disegnerà, ci saranno dei momenti di voto, siccome all'interno del libro, il libro segreto dei mandala, edito da Newton Compton, abbiamo anche inserito un capitolo dedicato alla geometria sacra, andremo a leggere anche alcune parti della geometria sacra, perché ovviamente questa sera non parliamo di geometria sacra, parliamo di geometria, vediamo adesso Astrid quello che ci dirà rispetto a come dividere il mandala, da dove iniziare, però dopodiché c'è tutta una parte che è legata alla geometria che abbiamo molto a cuore, ci sono dei corsi che abbiamo fatto che sono molto interessanti, tra l'altro uno anche dei, di sicuro delle lezioni che tratteremo nel prossimo corso che è in partenza il 16 di novembre, quindi se ancora non l'aveste fatto, vi consigliamo veramente di iscrivervi perché faremo otto lezioni, otto lezioni videoregistrate, tanti video, tanti tips e una di queste parlerà anche proprio della geometria sacra. Allora, la geometria sacra ha la funzione per noi esseri umani di armonizzarci, quindi è bellissima perché è nella natura stessa, anche lì ne parliamo molto nel libro di come la natura stessa è il mandala e noi il nostro compito per crescere, evolvere e stare sempre meglio è quello di armonizzarci con quello che la natura stessa ci dà come energia, come sintonia, quindi il mandala geometrico anche che faremo stasera ha la funzione di armonizzare noi stessi, quindi ritrovare un benessere interiore attraverso uno, la creazione del nostro mandala, quindi è importante che quando noi lo creiamo e lo vedremo ovviamente più approfonditamente anche durante il corso ma mentre lo creiamo c'è già un primo step che lavora dentro di noi dopodiché lo potremo guardare, meditare, ci sarà tutto un processo su cui continuerà lui la sua funzione di armonizzazione. Grande Samantha che dice io scopo attorno di avere quella geogina ad attaccare al compasso grande Samantha e invece Chiara dice non vedo l'ora di iniziare il corso che inizi il corso tra l'altro scriveteci chi di voi anche se già è iscritto così anche proprio vediamo chi è pronto per questo nuovo per questo nuovo viaggio evolution mandalesco ciao Cinzia allora io vado a preparare un po' il tavolo perché ovviamente facciamo passo dopo passo questa creazione insieme dove vi spiegherò proprio tutti i passaggi per creare un primo mandala geometrico ovviamente ognuno creerà il proprio e sarà comunque un mandala individuale personale allora mentre proprio si abbiamo purtroppo non vedo un facebook user che dice scritta ma punto esclamativo vediamo se lo vede magari anche la Gloria Tony dice presentissima la Laura Sieri dice ho preso solo la prima lezione ok comunque vi metteremo poi il link metteremo il link ciao Laura Lepore per potersi iscrivere è praticamente il corso del libro quindi è un modo per vedere come per vivere la nostra creatività a pieno prima di tutto e mi viene da dire anche per vivere il mandala in tante maniere diverse come l'hanno vissuto gli indiani d'America come l'hanno vissuto i celti nella parte della geometria sacra la parte più magica esoterica del mandala è iscritta e pronta per il corso Simona grande Simona ok è iscritta invece dice la Claudia Baruzzi non vedo l'ora di iniziare grande Claudia manca poco manca poco allora iniziamo cambiando la telecamera ci posizioniamo sulla telecamera qua a fianco di Astrid e questa sera Astrid tra l'altro con che matite colorerai allora stasera colorerò poi con le Derwent le color soft che è veramente una buona matita è molta morbida quindi dopo la vedremo è una matita veramente molto molto morbida anche lì anche nei corsi ne parliamo molto del materiale perché è importante che ci sia anche un processo di conoscenza del materiale rispetto a noi stessi quindi a qualcuno può piacere tantissimo a qualcuno un po' meno ma ovviamente essendo una qualità professionale comunque è indicati per tutti chi ce l'ha anche mi può scrivere se l'avete già anche se le conoscete si se le conoscete allora per prima cosa noi prendiamo il nostro foglio orizzontale verticale per il mandala non ha molto importanza perché comunque sarà un cerchio però in questo caso al livello proprio vediamo ogni tanto ok se metto il compasso magari vedo il compasso allora per la telecamera ovviamente noi faremo in orizzontale dividiamo il nostro foglio per trovare il centro teniamo la stecca e iniziamo a trovare il cerchio dividendo il foglio in due ok qua va bene allora la prima cosa che dovremo vedere è in quanti parti dividere il nostro mandala perché il nostro mandala è comunque questa sera la telecamera questa sera la telecamera ci fa un po' di un po' di scherzi ok adesso provo di aggiustare magari passo un attimo la parola a Raffaele che vedo ok vediamo se se riusciamo a a sistemare anche perché proprio siamo vicini siamo dirimpetali vediamo se possiamo di nuovo riprendere la telecamera ok allora abbiamo il nostro mandala che è geometrico quindi vuol dire che ha questa simmetria in tutte le parti che noi andremo a disegnare quindi se scelgo questo per esempio motif qui dovrò assolutamente ripeterlo in tutte le fasi del mio mandala in tutte le parti del mio mandala quindi la prima cosa che ognuno decide per se stesso in quante parti dividere il nostro mandala che generalmente se è pari è ancora più in sintonia con noi con la pace interiore la serenità se per esempio può essere anche dispari come non lo so il tre in tre parti nove parti questo creerà più espensione energia stasera abbiamo deciso di lavorare su un mandala in otto parti uguali quindi dividerò inizialmente il mio foglio in quattro parti uguali con una croce per esempio quindi prima cosa partendo dal centro faccio una linea verticale e assolutamente rispetto a questa linea lo divido in orizzontale per avere quattro parti uguali adesso devo dividere ogni parte ancora in due e avendo il goniometro mi è facile dividere queste due parti perché ho 45 gradi una parte è 90 gradi il nostro cerchio è 360 gradi quindi 90 180 e così via fino a 360 quindi qua posso fare un segnetto e qua sempre 45 gradi un altro mentre lo stai facendo Astrid ti chiedo se le persone che lo stanno facendo non hanno magari la mina ma hanno una matita che che matita consigli allora io anche perché andranno immagino poi cancellate queste queste linee sì io utilizzo una matita meccanica solo per facilità ovviamente rispetto alla telecamera però comunque ha una durezza o una morbidezza di 2B perché è molto più facile cancellare dopo i tratti di strutture se si usa un HB quella normale per esempio scolastica o una durezza anche 2H è troppo dura andrà a segnare il sfoglio uno sarà molto difficile anche cancellare i tratti due graffierà il foglio quindi dopo quando andrò a colorare sopra mi farà un po' delle crune un po' dei segni dei graffi esatto e un corpeggio se dopo uso l'acquarello perché dopo tutto l'acqua andrà canalizzata lì e si vedrà molto il pigmento quindi io consiglio sempre una 2B facendo sempre attenzione con la mano di non andare a spiccicare ovviamente la matita perché dopo sbava un po' quindi facciamo un po' attenzione però comunque lo potremo cancellare facilmente nel frattempo anche se avete delle domande mentre Astrid spiega ma riscrivetecele in chat così mano a mano anche magari rispondiamo sì una volta diviso il nostro foglio in 8 parti 10 12 16 come l'avete scelto si va a scegliere il numero di cerchi per esempio lì lo vediamo in quanto numero di cerchi andare dopo a sviluppare il nostro mandala in questo caso stasera avendo fatto 8 parti uguali mi piacerebbe molto lavorare su 4 cerchi così abbiamo veramente una grande armonia perché abbiamo 8 parti che può essere divisibile per 4 divisibile per 2 e quindi crea veramente una grande armonia sul disegno per questo io prendo sempre appunto adesso metto la matita nel mio occhiello sceglierò una dimensione di cerchio del mio primo cerchio e questo un po' a discrezione io vi consiglio di non farli troppo grandi non troppo piccoli quindi di scegliere anche un'armonia nei vostri cerchi e quindi ne creerò il primo prendete il tempo di appunto tracciare scegliere osservare anche ascoltarvi mentre fate il vostro mandala siamo sempre in connessione con noi e anche l'universo parte più grande di noi la nostra saggezza interiore ho fatto tre e adesso concludo con il quarto questo potete scegliere ovviamente la dimensione che sentite e preferite dopodiché ovviamente questo si chiama griglia è una griglia del mandala può essere molto complesso lo vediamo anche tante volte nei nostri corsi ovviamente con tanti spicchi tanti divisioni anche un po' diversi l'un l'altro questo è una base però è importante partire dalla base per capire bene appunto tutti i step e i livelli adesso andiamo a valutare i diversi step però prima di valutarlo visto che abbiamo parlato di numerologia mi piacerebbe se leggiamo un attimo magari il numero 8 sì il numero anche un'introduzione adesso passiamo la parola a Raffael allora mentre mentre io continuo preparo un po' la cosa avanti dopo spiegherò però intanto preparo le basi cambiamo anche l'inquadratura allora sì andiamo facciamo così andiamo a prendere a cambiare eccoci qua allora all'interno del libro propriamente Astrid prosegue e adesso anche vi dirò perché c'è una piccola sorpresa perché serve poi per capire come procedere c'è una parte che riguarda proprio la anche la la divisione all'interno del capitolo del mandale geometria sacra ed è il significato nei dei numeri nei mandala tra l'altro avete visto prima parlando anche di geometria sacra perché lo conosce parliamo anche della Marcheba o Mercheba o Mercheba e vado a leggere un un breve un breve trafiletto proprio nel creare e costruire mandala ispirandoci alla geometria sacra per prima cosa dovremo scegliere in quante parti dividere il nostro cerchio ogni divisione se il mandala che vogliamo creare di tipo geometrico avrà un significato ben preciso e un'energia un'armonia specifica un mandala creato con un cerchio diviso in sei parti uguali non avrà la stessa finalità di un mandala creato con un cerchio diviso in dieci parti uguali vediamo ora i significati dei numeri secondo le antiche tradizioni e la nostra esperienza se vorrete a titolo personale interpretare dei numeri per la vostra ricerca sui mandala ricordatevi che per i numeri superiori al dieci dovrete sommare le due cifre e qua poi un momentino c'è una spiegazione di numerologia anche se ovviamente specificiamo in questo libro non tratteremo in modo diffuso della numerologia ma ci sembra corretto dare una puntuale chiave di lettura per le vostre sete di conoscenza e il vostro personale lavoro sui mandala e andando a sfogliare dopo che c'è il significato del numero uno il significato del numero due il significato del numero tre il significato del numero quattro e via via seguendo e visto che in questo caso Astrid ha iniziato a diviso in otto il mandala vado a leggere il numero otto quindi nel frattempo una domanda anche da Maria Maria Mattarello che dice la diagonale è una sola e puoi spiegarci magari io torno un momentino a rigirare anche magari prima di leggere Mari Lotto la diagonale vedi che sono sono diverse a seconda di quanti spicchi vuoi andare a creare nel tuo mandala quindi se vuoi creare un mandala in questo caso a otto spicchi c'è una una diagonale ogni praticamente una croce di Sant'Andrea è una croce che si vanno a intersecare ogni 45 gradi però ovviamente decidetelo voi questo è una serata proprio di tutorial in cui poter dare degli spunti se per esempio volete dividerlo in altro che 8 per esempio 12 dovete dividere 360 diviso per 12 che vi darà ovviamente una graduazione sul vostro goniometro quindi andrete dopo a dividere il numero di parti che vi è arrivato dividendo le parti da 360 gradi quindi per esempio 12 saranno 36 gradi per esempio adesso si va a fare veramente calcolatrice perché dopo 16 18 diventa molto complesso però utilizzate sempre il goniometro in questo caso era simetrico quindi 45 ho messo solo in alto non in basso perché dopo passando dal centro mi fa automaticamente la simmetria quindi mi viene molto più facile e ritorniamo mentre Astrid sta ultimando una piccola griglia invece a sinistra beh se vuoi lo posso posso lasciare se vuoi sì allora lascio l'immagine l'inquadratura di Astrid che poi vi spiegherà che cosa sta facendo e intanto vi vado a leggere anche il numero 8 tra l'altro Peggy Grillo dice è un mondo affascinante la numerologia interessante poterlo associare in che mandala hai ragione Peggy proprio nel libro ne parliamo e siamo contenti proprio di averlo di averlo fatto quindi il numero 8 simbolicamente con i due cerchi sovrapposti rappresenta il riflesso delle forze alte nelle forze basse e viceversa per questo è il numero dell'equilibrio cosmico il concetto di giustizia è spesso legato a questo numero ciò perché provando a immaginarlo come un numero simbolo quando diviso graficamente in due risulta uguale quindi equo ed equilibrato rappresenta anche la perfezione universale del compimento e del bilanciamento delle forze cosmiche e universali è il risultato dell'energia mossa del numero 7 spesso una persona legata al numero 8 arriva alla concretezza nei propri intenti e nella propria volontà nell'età adulta è una persona pragmatica e abituata al comando e con una forte attenzione ai valori ovviamente dopodiché da qua si può sviluppare ovviamente tutti quelli che sono i concetti della numerologia legata al nostro nome alle nostre data di nascita ce n'è veramente da ce n'è tanto 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 da approfondire in genere ottiene il successo praticando una libera professione di solito chi è legata a questo numero è capace di una buona autocritica e analisi introspettiva la parte in ombra di chi è legata a questo numero è la convinzione di riuscire a raggiungere migliori risultati da solo questo a volte rende veloci ma non permette di arrivare lontano ricordiamocelo il numero 8 è legato anche al concetto di infinito sia per il simbolo che lo caratterizza sia per la sua energia che è in costante rigenerazione e divenire è un numero che simboleggia la maturità la padronanza del sé la forza di volontà e la realizzazione materiale e spirituale creare un mandala con 8 parti uguali aiuta a realizzarsi sia materialmente che spiritualmente la sua simbologia porta a maggiore riflessione ed è un ottimo strumento per la contemplazione e la meditazione mentre si crea un mandala con 8 parti uguali si attivano le dimensioni della psiche più evoluta e riflessiva e giusto anche per dirvi per chi ha il libro questo capitolo qua dopo di che continua con anche il numero 9 quindi con la spiegazione un po' di tutti i numeri parte a pagina 151 e finisce a 152 così anche lo potete trovare se siete legati magari anche ai numeri all'interno del libro c'è anche questa questa possibilità ritorniamo sull'immagine di Astrid e adesso andremo a completare le parti del nostro mandala partiamo dall'interno verso l'esterno questo ha la simbologia anche il significato di aprirsi al mondo la nostra energia la vogliamo che si espanda che va veramente dal proprio interno dal proprio punto centrale verso l'esterno in totale armonia ci sono dei mandala anche lì le vediamo anche spesso nei corsi che si parte dall'esterno per andare all'interno questo vuol dire un veramente ricomporre tutte le nostre energie fino a tornare a noi stessi ma non è la funzione del mandala geometrico il mandala geometrico è di stare in armonia con noi stessi ma anche con il mondo e il limite diciamo tra noi stessi e il mondo è sempre l'ultimo cerchio esterno da lì a qua si parte verso gli altri verso l'universo puoi spiegarci Astrid che cosa hai disegnato nel frattempo che leggevo sulla parte sinistra? sì allora io vi invito anche a disegnarlo ogni volta che fate un mandala geometrico che sono i quattri livelli del mandala geometrico quindi vedete questo è il primo livello del primo spicchio primo cerchio e l'ho disegnato qua poi il secondo che è qua un po' più stretto rispetto al terzo che è un po' più largo e al quinto eh quarto scusate che è qua se ovviamente avete uno più piccolo uno più grande diverso dal mio dovete rifare esattamente i vostri non il mio dovete veramente ricalcare esattamente la forma di ogni spicchio sulla sinistra ok adesso magari vi lasciamo cinque minuti per farlo sulla sinistra fare un grosso modo ovviamente come potete farlo ovviamente non perfettamente ma che sia veramente la propria immagine la propria forma dopodiché quando l'avete fatto provate a pensare quale simbolo geometrico volete inserire al suo interno perché dopo noi andremo a copiarlo e ovviamente con simmetria a rifarlo per ogni spicchio quindi prima facciamo una bozza sulla parte sinistra perché se iniziamo direttamente nel nostro mandala magari non ci piace dobbiamo cancellare tutto e diventa un po' un pastrocchio è meglio farlo lì direttamente se non ci piace lo possiamo cancellare ovviamente vi invito a farlo con la matita quindi pensate non so io inizio a pensare a una forma di un'elisse ognuno sceglierà per sé sempre sempre essendo forme geometriche che potranno essere facilmente duplicate in modo perfettamente simmetrico in tutte le parti qua per esempio mi piacerebbe fare e quando abbiamo simmetrico simmetrico per esempio io vorrei fare un triangolo utilizziamo oppure la stecca quindi qua per esempio dopo farò un triangolo qua magari una forma più araveggiante metto una base così e inizio a creare la mia forma se vedo che non è perfetto giustamente riprendiamo cancelliamo che per noi questo è veramente un esercizio importante per ricreare armonia interiore e poi qua posso fare anche qua delle lissi e rifarlo ovviamente in modo simmetrico però posso anche pensare di cambiare di metterne quattro fare dopo un cerchio poi farne altri quattro l'importante è che sia veramente geometrico posso fare di quadrati veramente a discrezione l'importante è la geometria poi una volta deciso non dobbiamo fare tutti i dettagli i dettagli sarà ancora un ulteriore momento che faremo insieme dopo però la struttura disegnare decidere le quattro strutture o più se avete fatto più cerchi e iniziare una volta deciso a ricoppiarle allora adesso proprio nel nostro mandala sempre a matita non direttamente a penarello perché anche la matita ci aiuta a ricreare una bella simmetria una buona geometria adesso che faremo insieme magari riascoltiamo un passaggio della geometria sacra mentre lo facciamo insieme sì allora mentre iniziamo potrei andare a leggere ad esempio quello che scriviamo sul sul seme della vita e sul fiore della vita bellissimo sul fiore della vita quindi continuiamo a parlare ovviamente di geometria sacra abbiamo scritto sempre sul libro ogni singolo aspetto della vita ogni forma formula matematica ogni pianta ogni forma biologica ogni nota e ogni melodia possibile della musica ogni più piccolo costituente del nostro corpo ogni atomo ogni cosa all'interno dell'universo è spiegabile e fa parte del fiore della vita il fiore della vita è così il simbolo della moltiplicazione infinita troviamo affascinante sapere che questo simbolo è stato ritrovato in tantissimi luoghi del mondo molto diversi tra di loro anche in epoche remote tra l'altro cambio velocemente mentre Astrid continua per farvi vedere anche magari per chi non si ricordasse qual è il simbolo del fiore della vita è questo quindi possiamo ritrovare nel tempio di Osiride in Egitto nel palazzo del re Assurban Nipalla nell'attuale Iraq a Massade in Israele in Svezia in India nello Yucatan in Finlandia in Giappone in Cina ed infine anche in Tibet il suo nome fiore della vita non dipende solo dal fatto che assomiglia a un fiore esso rappresenta insieme ad altre figure geometriche il ciclo della vita rappresenta i fiori su un albero in questo caso un albero da frutto nel ciclo della creazione la vessica piscis è la matrice che genera il seme della vita che a sua volta crea l'albero della vita una figura molto importante per il popolo ebraico lo ritroviamo anche nella Genesi ed è uno dei due alberi di cui Dio proibì all'uomo di mangiare i frutti se l'uomo l'avesse fatto sarebbe diventato immortale l'albero della vita creerà il fiore della vita che genererà allora il frutto della vita all'interno del frutto della vita ritroveremo di nuovo il seme della vita e tutto ricomincerà da capo il frutto della vita genererà inoltre sia i solidi platonici sia la marcheba chiamata anche cubo di metatron e questo tra l'altro è un fa parte anche questa parte qua anche di corsi che abbiamo sviluppato su mandale geometria sacra che abbiamo avuto il piacere proprio di fare che ci hanno dato veramente grande soddisfazione che tante persone hanno fatto veramente con tanta creatività e con tanta voglia di migliorare di lavorare dentro se stessi il popolo celtico si serviva del fiore della vita come di una rappresentazione del sole perché richiamante un archetipo di forza una forza generatrice che dona vita utilizzato spesso come talismano e protezione quindi abbiamo anche una storia che va sia in tutte le parti del mondo lo ritroviamo avete visto in tantissime nazioni e in particolare i propri celti lo utilizzavano come un simbolo un archetipo di forza di vera e propria forza nel frattempo Astrid vuoi magari dirci cosa come sta procedendo si adesso sto ridividendo un attimo i spicchi in due perché voglio fare appunto il triangolo che è alla punta proprio tra due linee e quindi per essere un po' precisa ho diviso ancora questi spicchi di 45 gradi in due quindi 22 gradi e mezzo che così dopo riesco a farlo a livello geometrico nel frattempo anche salutiamo Anna che dice che comunque bisogna lavorare giustamente su se stessi con tanto caraggio tanta porza interiore un caro saluto ad Anna e la Claudia invece che ti fa una domanda che dice quando si disegna si può girare il foglio o deve rimanere fermo nella stessa posizione anche qua cosa consiglio si allora voi potete girare il foglio io non lo giro perché altrimenti non vedete più niente al livello di telecamera però io vi consiglio di girarlo perché è molto più facile avere una geometria quando voi lo girate e avete la visuale sempre uguali assolutamente si ok mentre astridi anche voi continuate e continuo ancora io in sottofondo a leggervi ancora qualche qualche passo il fiore della vita ha anche un significato simbolico di connessione e di interconnessione con il tutto il tutto ovviamente stiamo parlando del tutto quello con la T maiuscola è un sistema di collegamento in rete della conoscenza è un simbolo che documenti alla mano è stato anche studiato da Leonardo da Vinci per le sue proprietà matematiche quindi diciamo è un simbolo che veramente ha accomunato tantissimi studiosi e che veramente ci ha dato tanto 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 una grandissima forza nel percorso quello di di Mandala e geometria sacra l'abbiamo vista approfonditamente ma anche nel corso quello nuovo in partenza parleremo di geometria sacra e anche qua penso che riuscire ad avere dei disegni anche in casa nostra con le forme della geometria sacra possano anche andare a riequilibrare riequilibrare quelle energie che ci servono per far sì che anche la casa sia effettivamente un luogo di comfort di comfort totale e nel frattempo Astrid è passata alla seconda al secondo cerchio quindi è cresciuta di livello vediamo sono passato proprio ai triangoli ho preso la punta ho trovato in mezzo ai spicchi e quindi vado avanti traccendolo direttamente questa volta con la stecca anche così da essere anche dei più precisi nel frattempo che Astrid continua magari leggiamo la domanda di Doriana vi ricordo se avete proprio delle domande scrivetecele in chat così mano a mano anche le rispondiamo Doriana a Tripodi dice aiuto mi sono persa sull'ultima suddivisione 22 gradi sì perché qua abbiamo 45 gradi quindi quando abbiamo diviso in 8 45 però per trovare in mezzo la nostra punta lo dobbiamo ancora dividere in 2 quindi sono 22 gradi e mezzo quindi mettendo il goniometro qua ho 0 45 e qua 22 e mezzo quindi le divido ulteriormente se vi risulta più facile potete anche prendere questo punto e questo quindi i due punte del spicchio vedere quanto avete in questo caso 4 cm posso anche dividerlo così a 2 cm quindi potete fare sia l'uno sia l'altro adesso io passo al terzo livello andiamo al terzo livello e invece passo alla geometria sacra dell'uovo della vita il simbolo dell'uovo della vita è creato dal fiore della vita ed è estremamente legato alla creazione della vita rappresentando come schema gli embrioni che si moltiplicano è uno dei simboli della geometria sacra più misteriosi e meno conosciuti e non rappresenta strutturalmente solo la genesi dell'essere umano ma simbolicamente è anche l'inizio del tutto l'uovo cosmico quindi stiamo parlando proprio di un simbolismo molto molto importante da una parte l'uovo cosmico dà origine al cielo e alla terra e in generale quindi al mondo dall'altra con la sua gestazione e rottura genera la nascita simbolica dell'uomo come perfezione all'interno del cosmo anche questo è un simbolismo molto bello veramente molto bello perché lo torno a rileggere da una parte l'uovo cosmico dà origine al cielo e la terra e in generale quindi al mondo dall'altra con la sua gestazione rottura genera la nascita simbolica dell'uomo come perfezione all'interno del cosmo la forma dell'uovo senza spigoli è perfetta incarna la spinta alla vita e per analogia con il grembo materno è sede in divenire della vita stessa il simbolo dell'uovo era molto caro pensate anche già agli antichi egizi che pensavano fosse l'origine del mondo perché recante in sé il concetto di potenzialità di germe generativo sia gli abitanti dell'antica Persia che quelli dell'antica Cina offrivano migliaia di anni fa uova dipinte come buon augurio in occasione dell'arrivo della primavera e questo se ci pensate è un po' quello che comunque andiamo a fare anche andare a dipingere le uova andare a dipingere le uova perché alla fine si fa nel periodo pasquale sapete che anche tutta la parte ovviamente è cristiana poi anche di sicuro anche cattolica è subentratta rispetto magari a tante feste pagane che c'erano prima del del culto della religione monoteista quindi tantissime tantissime festività come diciamo spesso sono anche proprio il frutto di quello che c'era prima e quindi sono state sovrascritte quindi come diciamo proprio anche nel libro pensate che quindi rompere le uova pasqueta è fortemente simbolico rappresenta e questo è veramente molto bello un augurio a se stessi di rinascere a nuova vita in seguito al profondo cambiamento ottenuto con il lavoro introspettivo anche nell'accezione religiosa cristiana tale rottura viene associata alla festa della Pasqua e al concetto di morte e rinascita di Gesù e se il tarocco il mondo potesse parlare ci direbbe io sono l'uovo alchemico quando l'uovo cosmico si schiuderà grazie al tuo lavoro spirituale verrai al mondo un ciclo sarà chiuso e tutto sarà uno e questo è di sicuro anche un bel un bel augurio che io Astrid gli facciamo nei momenti anche più più importanti più difficili è proprio quello di riuscire a schiudervi grazie al vostro lavoro spirituale che è comunque legato anche ad una parte importante ad una parte fondamentale di creatività di atto creativo perché è un atto di rivoluzionario un atto di libertà e facendo così rilascia rinasciamo nuovi a noi stessi rinasciamo nuovi a noi stessi e quindi si chiude un ciclo e saremo praticamente in un nuovo ciclo ritorno su Astrid che nel frattempo sta continuando con questa parte del mandala geometrico più arabbeggiante ovviamente in questo incontro noi facciamo cerchiamo anche di andare veloce ovviamente perché dobbiamo più che altro cercare di darvi un input ci vuole ovviamente dopo tanto tempo per fare un mandala geometrico però per come la pensiamo di Astrid ricordatevi che comunque va bene ricercare la perfezione ma deve essere quasi un lavoro in cui anche la perfezione non è il fine il fine deve essere quasi di fare un lavoro in cui alla fine diventa come un mantra quindi rilassandoci rilassandoci proprio nel nostro lavoro anche meditativo e la leia dice mi vengono in mente le bellissime uova di Fabergé eh sì sì e anche un grazie da parte di Facebook un abbraccio anche a te e Astrid sto disegnando delle forme un po' diverse dalle tue posso va bene beh certo assolutamente questo è l'invito noi ovviamente vi diamo sempre dei spunti delle idee ma ognuno sceglie giustamente le proprie forme geometriche va benissimo anzi bene mentre Astrid continua e magari nel frattempo diteci se anche voi l'avete fatto a otto spicchi oppure se l'avete fatto a sei eh o qualche altra divisione così magari vediamo di leggervi anche il numero in cui l'avete scelto a livello proprio di numerologia e mentre continuate allora vi leggo ancora un po' del del libro che va nella direzione invece di parlare del frutto della vita ritroviamo ancora nei disegni e nei bozzetti del Codex Atlanticus di Leonardo da Vinci delle figure geometriche che rappresentano forme di solidi platonici sfere spirali e serie corrispondenti alle serie dei numeri di Fibonacci a ispirarlo una sapienza sacra e antica come il mondo che vede nel suo compimento la figura geometrica sacra passare dal fiore della vita al frutto della vita una figura geometrica di cui si recava anche il cubo di Metatron e 4 dei 5 solidi platonici il cubo l'ottaedro l'icosaedro e il dodecaedro i solidi platonici infatti sono caratterizzati dalla presenza di madesime figure di lati e di angoli tutti sono inscrivibili in una sfera e contengono al loro interno sempre una sfera tetraedrica queste saggezze antiche si perdono nella storia iniziatica di civiltà antiche come quell'egizia quella sumerica o quella greca il frutto della vita è composto da 13 sfere che rappresentano a se stesse leggi di matematica e geometria e tra l'altro anche nel nel corso anche di geometria sacra c'è stato anche una bellissima poesia che abbiamo letto che che parlava di un'antica scuola iniziatica di un di un faraone egizio che si chiamava Akenaton e per chi l'ha fatto il corso è stato veramente che vediamo molto molto emozionante perché in questa preghiera che ricorda un po' i salmi del del mondo del mondo cristiano del cristianesimo e si riesce a percepire veramente quello che era la figura incredibile di questo faraone che ha sovvertito soppiantato tantissime tantissime leggi è stato un vero innovatore anche in viso tantissimi sacerdoti perché ha cambiato veramente tantissime cose a partire dalla figura stessa del faraone a partire dalla parte religiosa e la cosa bella è che comunque la geometria pensate faceva era uno dei cardini delle scuole che aveva istituito dove così come poi anche nella tradizione anche anche greca poi si succedette le scuole iniziatiche erano composte da diversi da diverse ovviamente materie esoteriche di cui la geometria in questo caso la geometria sacca che poi è sparita è sparita per millenni per tantissimi tempi se non poi ritrovarsi magari ad esempio nelle figure geometriche che venivano utilizzate per la creazione delle cattedrali e quindi un sapere che era mantenuto da delle gilde era mantenuto da dei gruppi iniziati che erano dei libri muratori che al loro interno custodivano ancora questi grandissimi segreti e poi nel tempo si è andati avanti ancora e si è ritornati poi a ad esempio a studiare la geometria sacra anche attraverso diverse diversi lavori diversi libri molto importanti e oggi per fortuna si sta continuando proprio in questa direzione la la ornella dice sull'ultimo cerchio ho riprodotto il triangolo ok Betty dice ho diviso in 12 spicchi ma non era voluto sei sicura Betty che non era voluto per tante volte diciamo non era voluto ma è arrivato probabilmente il tuo inconscio ti ha detto fai 12 spicchi e va bene così la Chiara bandecchi sto facendo una fatica assurda con il terzo livello va bene ci sta ci sta ci sta Chiara come sempre ritorniamo sulla telecamera di di Astrid e come sempre alla fine poi anche è nel più fare che che troviamo magari tranquillità e a pagamento ok allora io ho finito la bozza della del mandala rispettando quello che avevo messo come appunto appunti di primo livello di motif però adesso lo step successivo sempre a mattita sarà di completare con ciò che noi possiamo ritenere bello anche da 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 inserire in modo geometrico quindi per esempio posso pensare se ovviamente noi inseriamo un dettaglio lo dovremmo ripetere anche lì ogni volta e quindi il livello successivo sempre partendo dal centro e di pensare cosa si potrebbe inserire come dettagli il nostro mandala sempre rispettando le simetrie e ricopiando ovviamente in ogni spicchio quindi adesso ci possiamo dedicare a questo bene e visto che avevamo parlato anche di GILD di anche di libera moratoria riprendo anche nel frattempo che Astrid continua e anche voi continuate con il vostro con il vostro mandala riprendo anche la lettura del libro a pagina per chi ce l'ha per chi non ce l'avesse lo può trovare anche su tutte quante le librerie o anche su Amazon sul giardino dei libri lo può trovare proprio tranquillamente pagina 153 dove parliamo del mandala nell'architettura con i rosoni il termine rosone è utilizzato per indicare una finestra decorativa di forma circolare che viene adornata con sculture o vetri colorati per lasciar filtrare in essa la luce i resoni sono stati molto utilizzati nelle costruzioni religiose europee tra il dodicesimo e il sedicesimo secolo dopo Cristo il termino nasce dalla parola rosa perché la sua struttura spesso a disposizione stellare ricorda il fiore li possiamo trovare facilmente oggigiorno in tante chiese in tutta Europa dalle più piccole alle più grandi come ad esempio nella cattedrale di Notre Dame di Chartres o nella cattedrale basilica di Santa Maria de Palma de Mallorca con un diametro di ben pensate 13 metri il termine rosone appare però solo nel XVII secolo nell'Oxford English nel dizionario dell'Oxford English e adesso ripasso la parola a Astrid che che ci deve dire di nuovo qualche cosa allora io continuo a riempire di dettaglio il mandala voi ovviamente come diceva giustamente Raffaele fate al vostro ritmo però noi dobbiamo completarlo tutti i passi entro poco insomma quindi si continua a farlo allora non si deve però confondere il rosone con il somigliante oculus romano che ha un'apertura circolare generalmente centrale e posta in alto sulla cupola di un edificio religioso già dal periodo paleocristiano i rosoni sono sempre posti sulle facciate e hanno la funzione di fare entrare la luce dall'alto lo stare infatti seduti in una cattedrale gotica ammirando la luce che penetra dai rosoni permette di accedere a uno stato d'animo profondo e meditativo e quindi un'ulteriore possibilità di ispirazione e di avvicinamento a Dio proprio per questo il rosone è un'espressione architettonica mandalica che non differisce per obiettivi da molte altre che abbiamo analizzato in questo libro il rosone di una cattedrale è un mandala fatto di luce questo è un concetto che spesso approfondiamo durante tutto il corso del libro perché si tende a chiamare mandala solamente quello che è mandala disegnato quando invece alla fine la forma mandalica è propria di tantissimi oggetti di tantissimi oggetti e dal trovarsi e dal ballare in cerchio a fare dei cerchi in cui confrontarsi ai tamburi sciamanici non sono rotondi hanno questa forma così perché sono a caso quindi anche il rosone non è un caso che sia proprio circolare i rosoni sono quindi creazioni artistiche religiose che rappresentano il mandala in una chiave occidentale abbiamo anche diversa assonanza con i mandala di tipo orientale ad esempio la presenza nei rosoni dei santi che al pari di altre divinità e simbolismi orientali offrono il loro aiuto e intercedono per permettere al fedele di arrivare a Dio quindi sono in questo caso come dicevamo essendo una luce che si dipana dall'esterno ed entra dentro la chiesa in una maniera completamente diversa rispetto a quello che sarebbe se non ci fosse la creazione di questi vetri colorati e questa forza con cui arriva la luce ci permette al credente che entra in una chiesa che entra dentro in un luogo occulto di percepire l'energia che c'è di sentirsi ancora più vicino a Dio alla divinità ovviamente le basi dei rosoni ovviamente le basi dei rosoni così come per tutti i mandali orientali sono le proporzioni e la geometria la numerologia come base e la geometria come canone di lavoro sono fondamentali nella loro realizzazione sappiamo che i costruttori di cattedrali hanno detenuto saperi sia esoterici che esoterici quindi sia nascosti agli occhi che invece non nascosti agli occhi tramandati in scuole di pensiero iniziatiche e di corporazione e di sicuro l'uso della livella e la peculiarità sacra della ruota simbolica e i cerchi mandala erano ben conosciuti quindi di sicuro in queste scuole in cui si costruivano le cattedrali e si abbellivano e si progettavano i rosoni conoscevano benissimo la forza l'energia della geometria sacra vedo che nel frattempo proprio Astrid sta continuando veramente ad abbellirlo in maniera fantastica e tra l'altro ci piacerebbe vedere i vostri di lavori quindi per chi volesse postateli pure sul gruppo Evolution Mandala anche su Facebook lo trovate proprio come gruppo Evolution Mandala un gruppone comunque molto molto nutrito così vedremo insieme anche i vostri lavori adesso io adesso mi fermo qua potrei continuare tantissimo ma per adesso mi fermo qua e penultimo step si ripassa con una penna allora io vi consiglio di utilizzare sempre delle penne che siano ovviamente inderebile quindi può essere la Sakura in questo caso utilizzo quella unipin che ovviamente è un pigmento una china che è inderebile e di fare l'unica cosa attenzione che se si utilizza la stecca per esempio qua di non dopo trascinare perché dopo sbaverà spesso accade non con tutti i tratto penna ma spesso accade molto buoni anche quello della Stahler e ovviamente quello della Faber Castel basta che siano inderebile perché dopo dovremo cancellare tutto a gomma tutta la nostra struttura se non è inderebile veramente sbaverà dappertutto quindi io utilizzo spesso volentieri un 0,2 0,2 millimetro si può utilizzare un tratto penna un po' più grande per i motiv esterni per esempio un 0,5 qua e 0,2 dentro questo anche questo è completamente a discrezione quindi adesso io inizierò a passare dappertutto con il tratto pen nero quindi Mari lo riduciamo come marche quali consigli allora consiglio questo è la Unipin 0,2 c'è quella della Sakura Faber Kastel li fanno molto buoni anche quello della Stalder e credo anche quello della Koinor molto buoni perché è un marchio importante della Koinor che non è cinese Koinor è tedesco scusate come sempre magari anche qua faremo magari un video consigliando ulteriormente proprio i tratto pen quindi adesso passo dappertutto cerco anche lì io personalmente preferisco molto andare in senso orario mi dà anche molta serenità e in più mi permette essendo io con la mano destra di non passare subito dove sto ripassando come a volte può capitare quando si è mancino quindi in arte nella parte artistica molto spesso si inizia sempre in alto a sinistra per dopo spostarsi sulla destra poi in basso e poi tornare qua questo permette veramente di lasciare asciugare questa parte senza toccarlo con la mano ok nel frattempo la Claudia Baruzzi Claudia Baruzzi dice a proposito delle danze in cerchio è molto bella la simbologia delle danze bibliche da alcuni anni faccio corsi di queste danze è di sicuro molto interessante una grande carica Claudia una grande energia le danze poi figuriamoci le danze in cerchio ci vanno veramente a connettere con la nostra la nostra parte una nostra parte molto antica molto antica e che di sicuro abbiamo tante volte abbiamo abbiamo perso sia perché stiamo vivendo forse meno momenti di convivialità rispetto ad una volta anche proprio prima del del lockdown e figuriamoci rispetto magari ad altre generazioni che invece avevano la possibilità di ritrovarsi attorno a un fuoco e raccontare e raccontarsi e raccontarsi raccontarsi con la propria storia raccontarsi con i propri sogni raccontarsi magari anche in cerchi in cui si va e si andava a condividere anche le proprie difficoltà ma di sicuro il cerchio ha questa forza questa forza di tenere uniti di demarcare un fuori da un dentro di creare un gruppo un gruppo omogeneo dove non c'è prevaricazione dove non c'è qualcuno che predomina sugli altri ma dove invece lo stare insieme diventa il il mezzo e anche il fine del lavoro e mi viene da dire Astrid se se qualcuno magari non avesse un tratto pen ma avesse solamente i colori o il o il le matite colorate o o o ad esempio i pennarelli si si può direttamente fare ovviamente con i pennarelli o con le matite il contorno quelli si può ovviamente direttamente andare a colorare con a scelta ovviamente con quello che si ha o quello che si desidera perché magari a qualcuno non piace il tratto pen io in questo caso lo utilizzo perché dopo utilizzerò le matite generalmente non lo faccio quando faccio acquarello ma veramente questo è una cosa personale che piace ovviamente e sentendo magari anche ci sono dei momenti in cui ci piace utilizzare una cosa poi dopo come un ciclo lasciamolo andare utilizziamo un altro materiale e va bene perché anche lì nel mandala in realtà non c'è un modo giusto non c'è qualcuno che ha la verità assoluta per tracciarle perché come vediamo anche nel mandala segreto con il nostro libro il libro segreto del mandala si vede che in tantissime tradizioni sono stati creati in modo completamente diversi con materiali completamente diversi quindi secondo quello che è stato l'obiettivo i tempi il materiale disposizione l'utilizzo l'applicazione anche l'interpretazione di quello che è il mandala si è utilizzato tantissime cose diverse e quindi non c'è una sola unica maniera quindi in questo caso io lo ripasso ma voi potete seguire quello che è il vostro intuito la vostra saggezza interiore per utilizzare ovviamente tutto il materiale che preferite dopo magari iniziamo magari anche poi a disegnarlo dopo anche noi lo posteremo sui vari social finisco la stella e dopo faremo appunto l'ultimo passaggio mentre Astrid continua nella parte proprio di tratteggio col tratto penna vi condivido per chi volesse anche il il corso che in partenza al al 16 di novembre ed è un corso che si chiama il mandala segreto con cui praticamente faremo un viaggio in otto tappe sono otto lezioni che sono saranno video registrate quindi vi arriveranno tramite tramite mail e molto differenti tra di loro con delle delle lezioni completamente nuove tutti i video sono sono fatti sono lavorati sia per rispetto praticamente al tema della lezione quindi per creare un mandala rispetto al tema della lezione e anche poi per farci fare come abbiamo detto come abbiamo visto anche dei ragionamenti evolutivi parte il 16 di novembre all'ora 21 ma all'ora 21 perché chi chi aderirà potrà entrare dentro un gruppo privato e quindi ci sarà prende il rilascio della prima lezione arriverà al 21 dopodiché ognuno lo potrà fare con i propri tempi i propri ritmi quindi massima proprio massima libertà e proprio perché tutti quanti i video sono sono registrati sono disponibili 24 su 24 7 giorni su 7 e anche e anche vi arrivano ci sono due step il primo che è la prima lezione pensate anche con il libro con il libro vi arriva vi spediamo anche il libro e per ora teniamo ancora invece il corso completo a 77 euro ovviamente cambierà adesso che inizierà poi verrà cambiato il prezzo però sono proprio gli ultimi giorni per potersi iscrivere ancora a 77 saranno otto lezioni nella prima lezione faremo il mandala del coraggio sarà veramente veramente una lezione fantastica 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 questo non è il mandala del coraggio è proprio è un'immagine esplicativa e nella seconda lezione invece parleremo del mandala orientale con il mandala del risveglio quindi ci sarà un lavoro profondo legato proprio all'utilizzo che veniva fatto del mandala in oriente nel terzo nella terza lezione ci saranno mandala faremo approfondimento sui celti e ci sarà ovviamente una meditazione guidata anche all'interno quindi sono lezioni belle belle corpose come sa chi chi ci conosce e ha già fatto tanti corsi con noi e faremo il mandala della riconnessione anche questo è veramente bello tra l'altro ci saranno anche dei video esclusivi tips in regalo anche di volta di volta in volta di lezione in lezione nella quarta lezione ci sarà il mandala della guarigione ovviamente essendo mandala di guarigione non potevamo che farlo che dedicarlo legandole pensandolo all'utilizzo che ne facevano il saggio popolo degli indiani d'America quindi la quarta lezione è dedicata agli indiani d'America e il loro rapporto con il cerchio sacro con il mandala nella quinta lezione faremo il mandala delle meraviglie e anche questa sarà una super lezione perché parleremo come abbiamo fatto anche questa sera di geometria sacra anche qua meditazione video tips il workbook ci sarà proprio tutto quanto nella sesta lezione il mandala magico perché parliamo di mandala e esoterismo e in questa lezione in particolar modo andremo a fare anche proprio degli esercizi esercizi per sviluppare il nostro intuito per andare proprio nella direzione di avete presente meno ragionamenti e più intuito tiriamo fuori più la nostra parte del femminile sacro e lasciam stare più la parte invece che pensa al ragionamento più la parte sinistra del cervello quindi andremo a lavorare di più con la nostra parte destra del cervello con l'intutto dopo la lezione numero 7 che è dedicata a mandala e psicologia ci vedrà proprio attori principali nella creazione del nostro mandala delle opportunità e anche il mandala dell'opportunità l'abbiamo studiato veramente bello 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 ma bello bello anche qua meditazione il workbooks e i consigli creativi di Astrid e nell'ottava e ultima lezione con il mandala trans personale quindi qua al massimo faremo vivere la nostra creatività che sarà legata proprio alla nostra crescita alla nostra crescita personale è un mandala di azione quindi è un mandala di dire ok finisce il corso mettiamo un punto e passiamo all'azione andiamo siamo concreti e grazie alla creatività che abbiamo tirato fuori durante tutto quanto il corso siamo pronti come dicevamo prima per l'uovo per schiuderci per schiuderci a nuova vita e schiuderci a nuove possibilità vi ricordo lo trovate mettiamo anche il link sul anche sul sulla chat lo mettiamo proprio adesso potete trovare il corso basta connettersi con il il sito di www.evolusciomandala.it abbiamo messo anche il link per chi volesse in chat allora io sono andata un po' veloce perché altrimenti stiamo insieme tutta la notte che non ci dispiacerebbe ma giustamente vi volevamo lasciare andare riposare non è obbligatorio finirlo stasera ovviamente quindi io ho fatto solo la parte centrale normalmente si dovrebbe fare tutto e per passare quando avete finito se volete passare direttamente senza fare la china ovviamente potete farlo ma l'ultimo step sarà il colorare il nostro mandala sempre partendo dal centro per dopo andare veramente piano piano fuori quindi semplicemente colorando il consiglio di colorare il mandala è di quello di fare dei piccoli cerchi senza premere troppo inizialmente quindi trovando un colore che veramente vi richiama che vi piace che vi fa sentire sereni tranquilli potete fare dei piccoli cerchi io amo tanto magari utilizzare il piccolore creando un po' magari di contrasto quindi qua per esempio utilizzo anche il viola però veramente a discrezione senza pensarci troppo non la mente ovviamente razionale ma poco spazio nella parte creativa quindi utilizzate veramente allora nel frattempo che Astrid continua anche voi continuate c'è una domanda di Daniela Emmy che dice mi puoi ripetere le date delle lezioni allora il corso parte il 16 di novembre e la lezione viene viene rilasciata praticamente in serata alla fine dopodiché ogni settimana quindi il 16 il 23 il 30 di novembre il 7 così per 8 settimane arriveranno le lezioni come sempre ci sarà un incontro per vedere a che punto siamo nel gruppo quello privato in cui possono accedere solamente le persone che si sono iscritte in cui vedremo la presentazione della lezione singola però la lezione stessa quindi la creazione del mandala la simbologia la meditazione tutto è già registrato così che potete vedere la lezione 24 su 24 7 giorni su 7 se magari il mercoledì sera avete altri impegni o non riuscite per appunto impegni o lavoro quindi sono lezioni che arrivano via mail con dei link dedicati e dopo le potete rivedere vedere rivedere al vostro ritmo compreso ovviamente la diretta di lancio che sarà nel gruppo quindi rimane sempre registrata la potete rivedere quindi Daniela puoi partecipare dopodiché se se vuoi farlo di sabato di domenica di giovedì quello dopo è giusto che ognuno abbia la possibilità di farlo ai propri ritmi sapendo che comunque ci sono tutti quanti i video di spiegazioni tutorial che sono registrati riguardabili quanto uno vuole la Chiara dice Chiara dice Bandecchi dice alla fine ho superato le difficoltà lasciandomi andare all'intuizione ed è venuto da sola oh così grande Chiara ci piace ci piace grazie a te Daniele grazie a te Daniele un abbraccio un carabbraccio Adriana dice bellissima serata grazie mille a tutti e good vibes quindi buone buone vibrazioni un abbraccio Adriana c'è ancora un'ultima sorpresa regalo prima di salutarci però sì vuoi dirla tu sì allora visto l'immenso successo e piacere magari le persone adesso è che non riesco a staccarmi allora adesso passiamo da qua ci ritroviamo praticamente invece su questa telecamera adesso che ero partita tutta la notte a disegnare adesso Astrid vi dico sempre che che alla fine Astrid continuerebbe proprio fin quando proprio non crolla sulla sulla tavola sulla tavola dei disegni e va bene così allora visto che vi è piaciuto così tanto anche fare la serata disegna e ascolta con Astrid e Raffaele che abbiamo fatto appunto alcuni giorni fa con un mandala da colorare che era quello per i santi questa volta abbiamo creato un altro mandala che è un mandala dell'ottuno da colorare e appuntamento venerdì sera tra un paio di giorni lo ripetiamo quindi venerdì sì questo venerdì quindi tra un paio di giorni ripetiamo l'esperienza per chi vuole in live quindi sempre alle 9 chi vorrà rivedere e rifarlo magari durante il weekend lo potrà fare da domani vi condivideremo su tutti i social anche il nuovo mandala da scaricare e da stampare sarà un pdf sarà un pdf da poter stampare quindi serata coloring come dice Samantha si adoro disegna e ascolta disegna con Astrid da ascoltare con Raffaele ci sarà un nuovo libro un nuovo testo un nuovo mandala un nuovissimo mandala appunto non è stato ancora mai pubblicato e il forum per chi non lo conoscesse è lo stare insieme in totale semplicità in totale tranquillità armonia prendendoci del tempo per noi stessi per noi stessi e per noi stesse in maniera creativa in maniera gentile verso noi stessi e in questo momento voi ci troviamo insieme per che cosa? per disegnare per disegnare e ascoltare anche perché mentre come stasera disegniamo facciamo il nostro coloring che ovviamente può essere un mandala il nostro ma anche qualsiasi mandala o magari anche la lezione del primo corso ovviamente la prima lezione del mandala che sarà ne faremo altre ovviamente e quindi si ascolta un testo di crescita personale generalmente sempre di crescita personale letto da Raffaele e la Maria Claudia Massa dice mille grazie non vedo l'ora alle lezioni prossime il 16 di novembre per il corso e quella in partenza del mandala segreto un abbraccio cara Maria ci ritroviamo qua ciao Giussi così ci viziate con tutti questi regali ma è un bel modo per stare per stare assieme per fare per fare gruppo poi è piaciuto molto sì ogni volta leggeremo dei libri di tema di crescita personale di crescita spirituale ma rinframmezzati da della bella musica da della da della musica e staremo insieme proprio dipingendo e colorando colorando quindi seguite anche proprio sui social metteremo anche il link dove poter scaricare il nuovo mandala che ha fatto Astrid che credetemi è bellissimo quando lo vedrete direte wow wow è veramente veramente bello a tema a tema dell'ottuno e lo diciamo lo diciamo ok il tema è la casa degli hobbit nella foresta è praticamente autunno hobbit hobbit autunnale quindi grazie a te Mafalda per questa che dice questa bellissima serata grazie a te Mafalda che siamo stati insieme qua per disegnare per quali c'erano prima proprio good vibes vi lovo Laura all'Apple un abbraccio a te cara Betty un abbraccio a tutti quanti a tutte quante anche da parte mia su vi ricordiamo youtube facebook mettete la campanellina che così vi arriva sempre iscrivetevi vi arriva sempre l'avviso abbiamo anche il canale telegram per chi volesse con sempre dei contenuti evolution mandala telegram ci vediamo presto venerdì o mercoledì prossimo per il corso ciao a tutti buona serata buona serata